...e' un spettacolo incredibile di equitazione, vero? No! Allora andrà a presentarvi uno spettacolo magnifico di giocoleria, vero? No! Allora andrà a presentarvi uno spettacolo di danza, vero? No! E allora che facciamo? Carina! Signore e signori, questo è per voi. Signore e signore e signore e signore. Signore e signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.